Bentornati a un nuovo episodio di Est & Guest, io sono Carlo, come sempre, oppure come spesso capita e l'ospite di oggi è un ospite che ci è tornato a trovare abbiamo anche rischiato di fare la doppia puntata lo stesso giorno rispetto all'altro anno abbiamo rischiato tantissimo è rivenuto il 14 o il 15 e dovevamo beccarci il 14 o il 15 oggi è qui un grande amico che sta vivendo un grandissimo periodo, sono felicissimo, con noi Alfa Ciao a tutti, buongiorno, guarda che mi mancavano i tuoi applausi vorremmo fare come Cagni, andare allo stadio e far registrare un vero applauso e poi ogni volta metterlo come jingle ma tu lo sai che Cagni suona il giorno prima di me al forum da Sago e quello lì comunque sul parterre, non ci sono le persone ma ci sarà la sabbia è una paura fottuta che tipo la sabbia non la tolgano, capito? che arrivo, c'è il mio concetto, rispetto per Cagni però sai che lui con i live non è proprio... è un bel malto e quindi io non vorrei capire che il mio pubblico ha la sabbia nelle scarpe è un beach party a febbraio è un Cagni e beach party il giovane non lo fa più, lo fa Cagni e tu gli dai invece poi l'ascito successivo quindi ciao Cagni e non sporcarmi il forum troppo mi raccomando, mi raccomando come stai Andre? ne parlavamo prima, è il periodo più bello della tua vita forse sì sicuramente il più denso io ho sempre fatto le cose molto, capito, passo dopo passo quindi avere questo boom dopo Sanremo è un pochino traumatico perché comunque quando ti arriva tutto subito è... è da gestire è da gestire emotivamente soprattutto soprattutto la mia normalità, no? il fatto che adesso cammino per strada e non è più il mio coetaneo che mi riconosce ma è anche l'adulto, è anche l'anziano e questo magari ti toglie un po' di libertà ancora di più rispetto a quella che già prima ne avevi comunque poca devo un attimo, capito, trovare un nuovo equilibrio però sono molto felice cioè ti sarei mandato benissimo il disco sta andando benissimo faccio il forum, faccio i palazzetti cioè di cosa mi devo lamentare assolutamente di niente semplicemente sto cercando un attimo di capire ricalibrarti esatto ricalibrarti senti noi ce l'avevamo lasciati l'anno scorso a questo tavolo che stavi per fare un viaggio in America e io volevo un po' ripartire da lì perché poi delle last news ne parleremo in questa chiacchierata insomma però volevo anche per dare un po' di raccontare anche che nulla accade per caso da quel momento lì da quel viaggio lì cosa è successo fino a Bellissimissima poi c'è stata l'estate e arriviamo piano piano poi a a Vai, il Pazzo di Sanremo, il disco e tutto quanto quindi tu parti per l'America l'anno scorso io parto per l'America perché attraverso il mio management e attraverso un brano che si chiama You Make Me So Happy mi apro praticamente delle porte per il mondo degli autori e produttori americani quindi vado lì a scrivere un po' di canzoni a vedere che succede faccio lì 15 giorni torno a casa con una ventina di canzoni tra cui Vai appunto e tra cui il ritornello di Bellissimissima perché in realtà Bellissimissima è nata un po' in Italia e un po' in America e alcune canzoni che sono nel disco altre che lo saranno dopo quindi sono andato praticamente lì a conoscere i produttori e gli autori che hanno scritto le canzoni che hanno segnato un po' la mia ma penso anche la tua la generazione di MTV quindi i video musicali di Ed Sheeran Lumineers, One Republic, Vans Joy tutto quel mondo lì che a me fa impazzire arrivi e vedi il disco di Diamante di Harry Styles e che effetto ti fa? bro mi ricordo la prima volta in cui sono andato proprio la prima volta la prima sessione sono andato da questo produttore che ha prodotto il disco di Mac Miller quello con l'aeroporto con l'iscalzo adesso non mi viene il nome del titolo e quello è stato strano cioè tu entri in uno studio e vedi sei abituato a vedere non lo so il disco d'oro di Elodie non sei abituato a vedere quello di Mac Miller capito? e questo è stato un'esperienza incredibile anche perché lì il modo di fare musica è molto molto diverso è molto più umano è tipo sai che non l'avrei detto? ma invece anche io all'inizio perché poi ti immagini Los Angeles capitale della discografia ti immagini tieni sta canzone cantala una manovia incredibile di canzone cioè di produzione musicale invece no a volte è successo chiaramente però ho avuto la fortuna di conoscere grandissimi autori che magari hanno scritto per Lana Del Rey l'Imagine Dragons il Coldplay che invece dicono senti abbiamo quattro ore per scrivere una canzone ma le prime due ore che ne dici se ci conosciamo ci andiamo a prendere un caffè caffè poi vabbè il caffè un succo mi racconti chi sei perché sei qua vieni dall'Italia che cosa anche io ho un parente dall'Italia e poi magari parlavamo d'amore parlavamo non lo so di vita della vita delle nostre giornate trovavamo qualcosa in comune e scrivevamo una canzone su quella cosa lì incredibile è molto umano lì il rapporto ma perché secondo me c'è talmente tanta competizione talmente tanta velocità che ti devi creare dei momenti io ho avuto la fortuna di conoscere comunque autori e produttori con cui io mi sento ancora e con cui collaborerò nel senso che poi lì ovviamente la discografica ti dà un'occasione di fare una sessione con questi poi sta a te certo sfruttarla come sfruttarla colpire questi produttori per esempio i produttori di Vai che hanno fatto dei brani incredibili io mi sento ancora con Mark e Jan sono due ragazzi americani hanno detto comunque noi siamo a Milano nei prossimi mesi ma senti ma vecchiamoci facciamo musica quindi c'è comunque un clima di presa bene da quel viaggio che mi fa dire wow cioè si può collaborare con quel mondo non lo fa quasi nessuno ma può succedere una via c'è effettivamente soprattutto quando è agevolato come mi racconto fino adesso da un processo totalmente umano perché se io dovessi essere un autore o un cantante mi immagino andare a Los Angeles in California avere 15 giorni per scrivere un disco 5 canzoni 6 canzoni probabilmente mi blocchere totalmente se non fosse così tanto empatico ma poi anche l'inglese nel senso che il mio livello di inglese è accademico cioè non è che io parlo un inglese scioltissimo e poi loro hanno un accento americano molto marcato che comunque a livello di comunicazione per esempio Vai il UU il fischio nasce perché a un certo punto con i produttori non riuscivamo più non dico a capirci e quindi avevamo spostato la conversazione da lessicale a melodica solo top line melodica quindi parlavamo tipo e lui e quindi da lì avevo detto teniamo sia l'UU che il fischio è incredibile ma nasce dal fatto che in realtà tipo una torre di babele praticamente dove ognuno si parla nessuno si capisce però in qualche modo la canzone è venuta fuori quindi torni con bellissimissima e vai butti fuori bellissimissima boom e hit totale dell'estate e ti fai un'estate in giro come piena di live si abbiamo fatto una con Sanremo già in testa no 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 ti dico la verità io dopo l'anno scorso tu sai comunque te ne avevo parlato ampiamente di Sanremo giovani io Sanremo non lo volevo neanche fare semplicemente cioè non è che non lo volevo fare non ne volevo parlare era quella roba che dicevo vabbè se succede bene sì avvisatemi se succede se non succede fa lo stesso ci ho già sofferto troppo l'anno scorso perché io davvero l'anno scorso ci sono rimasto male tanto e quindi insomma non ho mai avuto Sanremo in testa per l'estate ma perché bellissimissima stava andando talmente forte non ci pensavi nemmeno quasi sì non era importante ma quando dico forte non intendo a livello di numeri intendo proprio a livello di vita quando mi sono capitate due o tre situazioni che mi hanno fatto dire ok tipo una signora che me l'ha cantata davanti senza riconoscermi che per me questa è una cosa incredibile perché quando una canzone diventa più famosa lì te vuol dire che tu hai fatto il tuo lavoro alla grande alla grande proprio ma anche non lo so il papà che la dedica alla figlia la canzone di un sacco di di coppie matrimoni richieste di matrimoni l'ho rivista oggi su in c cioè bro con la roba lì comunque per me è vitale perché è normalità no? cioè se tu in qualche modo scrivi una canzone e io l'ho scritta perché una ragazza non mi cagava più quindi non è che l'ho scritta perché chissà che dinamica e vedo che una persona si sposa con quella canzone per me dico è di una potenza emotiva incredibile ti riempie tutti i buchi che ti lasciano per le cose tra virgolette brutte le insoddisfazioni le delusioni cioè noi lavoriamo tantissimo su l'aspetto la coolness il apparire l'essere interessanti ma quando tu scrivi una canzone quella canzone diventa magari colonna sonora di un momento così personale unico anche magari addirittura nella vita di una persona perché auguriamo la coppia che sia sposata Danny si chiamava vero l'ho visto prima il video cioè di sposarci una sola volta e quindi fare una sola proposta e quella sola proposta è con quella canzone lì per me quella è la vittoria della musica io sono cresciuto con quel tipo di mentalità cioè io voglio scrivere canzoni e se diventano colonne sonore di momenti della vita delle persone cosa posso dire mi emoziona sempre sempre allo stesso modo sempre bellissimo bellissimo e quindi dopo quest'estate di live bellissimissima che ti ridà un po' anche di pienezza interiore che è fondamentale e c'è questo questa va in mano torno dall'america doveva semplicemente andare nel disco perché tanto immagino che torno dall'america c'era già l'idea di doveva essere un singolo il viaggio dall'america sì esatto l'idea del disco c'è da un po' di tempo c'era già quando mi hai fatto un'intervista il titolo non so che ha creato il mondo ma so che era innamorato culto tra l'altro ti piace? culto totale ma totale bro è un titolo un po' lungo però adoro i titoli lunghi adoro le caption lunghe è un titolo così pieno di te anche fondamentalmente che solo te secondo me potevi tirar fuori un titolo del genere cioè se avessi fatto qualcun altro sarebbe stato tipo invece il fatto che l'abbia scelto te secondo me è proprio sulla tua sulla tua sagoma è incredibile quindi c'era già l'idea comunque di fare questa roba qui volevo fare un disco che parlava dell'amore degli altri cioè un disco che non parla del mio amore autobiografico c'è veramente poco di me nel disco ma perché bro cioè io ho 23 anni ho iniziato a scrivere canzoni e a fare successo quando ne avevo 18 e io non voglio diventare ecco la cosa che mi spaventa più di tutto è diventare il cantante che ha la formula che fa la stessa canzone più volte e in qualche modo blocca il percorso di crescita che la musica ti può dare perché non lo so ottieni successo se fai un determinato tipo di canzone e allora fai quella canzone un sacco di volte a me questa cosa il pensiero di annoiarmi con la cosa più bella che ho che è la musica mi spaventa è un incubo è un incubo e quindi ho detto voglio fare canzoni guardando la vita quindi film libri per strada origliavo le conversazioni in metro per farti capire il livello dell'extreme cioè cuffie volume a zero origli la telefonata il litigio ti immagini cosa si stanno dicendo non so neanche se sia troppo legale che grado di empatia c'hai con quelle situazioni perché il mio è altissimo quando io vedo coppie che litigano e coppie al telefono che litigano poi io ho anche la ragazza che non vive a Milano quindi percepisco anche la roba è capito la roba proprio sto tipo è quella cosa ma guarda che comunque secondo me tutti dovremmo vivere di più guardando fuori perché c'è troppo egocentrismo c'è troppo egomania nella nostra vita abbiamo tutti troppo bisogno di sicurezza e pensiamo solo a noi di centrismo al nostro dolore come se gli altri non lo provassero e secondo me ogni tanto vivere come se tu non esistessi a me capita di camminare per strada guardare scene di vita e dire io di questa cosa faccio parte non so se ti capita ci sono delle immagini per strada che ti fanno veramente pensare non so che ha creato il mondo ma so che era innamorato cioè io quando vedo due anziani che si tengono la mano per strada o il nonno che accompagna il nipote o il bel tramonto mamma mia o nell'aeroporto il marito che coi fiori tutte quelle immagini che ti non è che lo stai provando tu l'amore però ne capisci la forza no? totalmente e ti cambia la giornata quali immagini totalmente dici wow che bello un giorno ce l'avrò anch'io o magari ce l'ho anch'io adesso e quel tipo di sensazione secondo me è fortissimo è incredibile ti cambia la giornata ti cambia la giornata e ti fa secondo me anche ricredere un botto a tanta negatività che mettiamo come dicevi prima nelle nostre cose cioè i gesti inconsulti tra virgolette però quelli positivi non quelli da matti siamo tutti troppo presi dal nostro dolore dalle nostre battaglie tutti abbiamo le nostre battaglie però secondo me vivere guardando anche un po' gli altri e osservare l'altruismo puro al 100% l'umanità al 100% ti cambia la giornata fare un bel gesto essere la versione migliore di te no? io cerco ogni giorno di esserlo poi chiaramente ci sono dei giorni in cui non ce l'ha fatto giorni in cui ce la fai l'uomo pecca di natura però bravissimo anche solo fare una roba in più o diversa ma dare quel messaggio in più all'amico che non senti sai quante volte genitori chiamare infatti dopo questa intervista chiamo mia madre al 100% te lo consiglio non la sento mai solo quando la chiamo solo quando mi serve qualcosa che sono poche le volte però giustamente cazzo mi chiami sempre quando mi serve qualcosa chiami per sapere come sei secondo me la nostra età ci sta sul lungo ci mancherà o troveremo un modo per io come me sto cercando di perché penso che per loro sia decisamente traumatico il tutto tutto questo che sta succedendo sì perché poi comunque dai è emotivamente troppo forte lo è per me figuriamoci per un genitore che ha l'istinto di proteggerti totalmente esatto di fare metterti davanti proprio a tutti i proiettili che possono tuo figlio Sanremo tutto ciò che vuol dire no tuo figlio Sanremo quindi io cerco un attimo di capire che cosa vuol dire per loro perché poi sì mi vedono felice però giustamente sono preoccupati è inevitabile dai la cosa più bella che ti hanno detto quando arriva la notizia allora secondo me la cosa più bella oltre al complimento chiaramente credo che sia stato Vecchioni perché io esisto cioè sono nato perché i miei si sono innamorati grazie a una canzone di Vecchioni e a Lucia San Siro quindi comunque comunque già sono qua in questo pianeta terra anche grazie a Roberto Vecchioni che è il cantante preferito anche di mio papà infatti io ho proprio il poster in casa a casa Genova poi l'ho portato a Milano di Vecchioni quindi in qualche modo questa cosa che è successa a Sanremo del duetto di Sogna Ragazzo Sogna è stata una cosa che nella vita ci sono stati dei segnali che sarebbe accaduto ed è assurdo la traiettoria un po' della vita della musica dove ti porta e quindi quando li ho chiamati dopo l'esibizione che è stata un'esibizione diciamo molto intensa soprattutto per me è stato bello vederli piangere che è qualcosa che non facciamo mai nel senso che comunque non so io ho un rapporto con i miei molto d'orgoglio quindi comunque anche i momenti di debolezza sono protetti è difficile spostare la conversazione a livello proprio emotivo proprio 100% e quindi vedere i miei piangere per qualcosa di bello che ho fatto io quindi senza proprio un muro davanti non c'era più niente niente non c'era più niente io pensa non li ho voluti a Sanremo semplicemente perché ero già in ansia e non volevo avere quel momento una roba perché comunque è una settimana poi la settimana a Sanremo bro fai interviste dalle 7 del mattino alle 7 di sera fai la pipì poi vai a cantare questa è la giornata media Sanremo quindi non è che c'hai tempo di caffè di robe però è come se per la prima volta in quella telefonata si fosse abbattuta una barriera che hanno molti figli con i propri genitori cioè non riescono a parlare emotivamente ovviamente al 100% e quella cosa lì mi ha proprio perché mi ricordo che un po' mi ha detto io cosa ti devo dire sei mio figlio hai appena cantato col mio idolo hai fatto qualcosa di incredibile e da lì poi io ho rivisto l'esibizione e ho detto wow che cosa cazzo è appena successo mi racconti infatti io vedendo l'esibizione poi mi sono anche rivista ai giorni quando sono uscita su youtube perché oggettivamente è stata mia e anche nostra ne abbiamo seguito Sanremo qui nella nostra top 3 al di là del valore affettivo che proviamo tutti per te ma oggi ti hai messo proprio un momento in cui tra chiacchiere birre e robe comunque attenzione al festival c'è stato un momento in cui tutti guardavano quella roba lì perché è stata effettivamente da pelle d'oca e io ti ho visto libero cioè cosa hai provato prima dopo durante le chiacchiere che hai fatto con vecchioni cosa hai assorbito te lo chiedo adesso e mi rispondi però io ti ho visto libero proprio anche nel gesto ho visto in IR ho detto un ragazzo che a Sanremo si toglie di NIR che ha al fianco il suito e lo pronto per cantare la cover che è anche un po' una delle serie più cult del festival vuol dire che in quel momento è al 100% libero da qualsiasi cosa se non per quella cosa lì che è la esibizione sai io sono sempre stato molto metodico ho sempre trattato la musica con un grandissimo rispetto perché per me la musica è qualcosa di gigantesco e sono onorato il fatto che sia il mio lavoro quindi l'ho sempre tenuto molto come un lavoro va tenuto con rispetto però ogni tanto la musica ti regala questi momenti incredibilmente vitali questa occasione di viverti una cosa al 100% e io ho fatto così con la cover se ci pensi ci pensavo qualche giorno fa togliersi l'INIAR a Sanremo è una follia sei pazzo è una follia io non ho sentito una nota io non mi sono sentito cioè io non ho cantato seguendo la linea melodica il click cioè ho proprio ho proprio tolto tutto perché volevo vivermi il momento volevo sentire la voce del professore qua e non attraverso l'INIAR che è una follia cioè qualcosa che io non rifarei mai dal punto di vista razionale è una follia però tu quando ti arriva quella cosa lì e dici io non so come andrà la mia carriera io non ho l'idea però questo deve essere un momento che devo vivere però questo è un momento che sarà tatuato dentro di me per sempre a prescindere da come andrà la mia carriera da come andrà la musica e tutto quanto non voglio avere alcun tipo di sovrastrutture io ero molto teso chiaramente prima di cantare perché cazzo sto per cantare con Roberto Vecchioni che è uno dei dieci cantautori della musica italiana della storia pilastri c'è lui c'è Dalla c'è Guccini De Gregorio non è che sono tanti capito? e al di là del fatto che è un uomo gigantesco perché è un uomo comunque che sta avendo un periodo difficile nella sua vita lui ne ha parlato anche pubblicamente della sua malattia e tutto quanto è un uomo che è incredibilmente vitale che mi vede e mi abbraccia come se fossi un figlio e comunque parliamo di cose incredibilmente belle di cose vitali lui mi ha visto teso prima di cantare mi dice sarebbe strano se tu non lo fossi e mi dice ti dico una cosa che mi ha detto Gino Paoli che già a livello del citazionismo esatto già pronti via no mi zio mi ha detto una roba un giorno te la dicono Gino Paoli quando canti ci sei solo tu mi ha detto perché non ti deve fregare niente dei milioni di persone nelle persone davanti tu quando canti ci sei solo tu e ha detto una cosa incredibile qualche giorno dopo che lui canta con gli occhi chiusi perché si bacia anche con gli occhi chiusi quindi quando tu ami e apri il cuore devi togliere tutti i pensieri di quante persone davanti quindi sono molto contento che tu mi dici che ero libero io ho cercato di esserlo perché veramente ne avevo bisogno dopo tanti anni di lavoro che poi non è che adesso sono continuo a lavorare di costruzione e non si smette mai di costruzione però dopo tanti anni di costruzione da zero a un punto una volta vivivo questa cosa e non penso alla nota non penso alla prestazione canto canto come potrei cantare al bar di Est esatto e credo che in qualche modo questa cosa sia arrivata perché poi sogna ragazzo sogna non è un brano che devi cantare bene lo devi cantare col cuore esatto lo devi cantare e quella cosa lì secondo me è stata molto molto forte poi lui non mi ha detto niente quando mi ha lasciato il palco mi ha fatto la sorpresa sul finale quando mi ha lasciato cantare l'ultimo verso una poesia che ti ha lasciato e ti ha ascoltato occhi chiusi pure è una cosa che alle prove non l'aveva mai fatto e quindi capisci che io mi trovo già questa situazione di emozione fuori di testa che è un'emozione anche fisica perché io sentivo proprio il sangue fluire sulle mie braccia in maniera irregolare quando senti le mani calde e dici tipo che cazzo cosa sta succedendo e c'hai 30 secondi e c'hai quel minuto quell'outro che ho scritto in realtà da prima di Sanremo in realtà io l'avevo scritta per i fatti miei quel tipo di outro infatti quando l'ho sentita pensavo fosse pure proprio un corrimando tipo potrebbe essere nella mia testa non avendo ancora sentito la cover con Vecchioni e non avendo sentito ancora il disco l'intro del disco poteva ipoteticamente finiva col titolo in realtà non l'ho scritta per l'occasione l'avevo scritta per i fatti miei per i cavoli tuoi ma l'altro ho sempre detto scrivo un sacco di cose anche per me e basta non so come dire non è che ogni cosa che scrivo deve uscire lo faccio perché mi piaceva mi piaceva l'idea e l'ho fatto e quindi quel tipo di emotività è stata polle zio c'è proprio una cosa senza senso se ci ripenso dico sai quando dici ma è successo come dire ma è davvero successo ogni tanto lo rivedo ancora l'esibizione dico ma questa cosa è successa davvero è nella mia vita non è la vita di un altro è una roba folle con Vecchioni che ti ascolta ad occhi chiusi anche un po' anche lui chiaramente emozionato e mi fai complimenti per il testo Vecchioni mi dice grazie che ti fa capire cazzo io questa cosa non finirò mai di dirla si può arrivare alle persone con umiltà e con normalità io un sacco di artisti che ho conosciuto giganteschi sembra che a un certo punto tu debba usare la carta arroganza per diventare grande e quando vedi invece questi casi incredibili di normalità di Vecchioni che ti fa i complimenti a me che sono uno stronzo di 23 anni mi dice grazie per avermi migliorato la canzone Vecchioni migliorato la canzone migliorato la canzone migliorato grazie non hai fatto una figura di merda e tu comunque mi hai ringraziato cioè che dovrei non lo so dovrei ringraziarlo la vita solo per il fatto che mi ha permesso di farlo ti fa capire comunque come quel tipo di generazione quel tipo di scuola ma anche il futuro c'è bisogno di questa cosa qua cioè noi facciamo i cantanti non salviamo vite no no assolutamente cioè facciamo musica e bisogna viverla così con più tranquillità con meno una porta aperta arroganza nei miei pensieri dell'ultimo anno e comunque voi fate musica noi facciamo intrattenimento spesso o sulla musica o su quello che succede nel mondo nel senso l'unico dovere che abbiamo ognuno di noi secondo me è di svegliarci la mattina carichi di belle emozioni e fare il possibile in 24 ore per dare agli altri gratitudine e basta la gratitudine manca proprio il concetto di gratitudine darla agli altri alla vita al cioè io ho iniziato questo lavoro per caso avevo 18 anni facevo canzoni una mia canzone è andata virale online e c'è sta possibilità e ho questa occasione data da Dio dal destino chiamalo come cazzo vuoi e io come faccio a non essere grato alla vita come faccio a non svegliarmi e dire wow cioè mi è successa questa cosa ho avuto questa occasione e io non posso al di là di non sfruttarla quindi continuare a impegnarmi al massimo non essere grato ma abbiamo tutti un motivo per cui essere grati nessuno ha una vita in cui gli va tutto male tutto male dipende dal punto di vista devi solo spostare il punto di vista e a quanto profondamente poi leggi la tua interiorità eccetera eccetera bellissimo bellissimo anche poi queste chiacchiere fanno parte secondo me del processo di allontanarsi da ciò che è artificiale e avvicinarsi a ciò che è vero e a ciò che quindi sposo a 100% il tuo messaggio allora torniamo al disco già torniamo al disco un disco un disco quindi che era nato a testa dalla nostra intervista più o meno che segue il filologico delle storie d'amore degli altri e ti pesco qualche qualche pezzo qualche strato allora l'intro con Vecchioni nasce prima o dopo il duetto a Sanremo? nasce prima nasce prima perché io avevo un rapporto col professore già da prima non tanti giorni cioè non tante settimane prima cioè tre settimane prima quando decidi esatto e lui ha scritto una poesia apposta per l'intro del mio disco lui ha proprio scritto l'intro che sarà anche dei palazzetti insomma di tutto questo viaggio nuovo la scritta è letta lui incredibile ti pesco ma so che era innamorato quindi seconda traccia e per chiederti a chi dedichi questo disco nella seconda strofa di questo disco c'è la la storia di tutti non di tutti dei miei amici ok mi piaceva l'idea di fare un disco che è una fotografia della mia vita adesso e quindi racconto di Filippo che è il mio amico con cui ho fatto il liceo che ora vive in Olanda e ha aperto un ristorante lui dormiva in classe e nessuno ci puntava a niente adesso invece c'è un ristorante che funziona in Olanda racconto di Benny che è la mia migliore amica da anni che per me è la ragazza più bella del mondo e non lo capisce racconto veramente di Toto che è il ragazzo con cui ho prodotto questo disco con cui ho condiviso notti infinite in studio assieme a prendere togliere e rilavorare quindi racconto un po' la storia dei miei amici ma perché io credo che alla fine non so che ha creato il mondo ma so che ha innamorato un disco pop un disco folk ma un disco pop non ha la dinamica indie no no vai dritto proprio dove devi andare e molto spesso il termine pop viene visto come qualcosa di talmente per tutti che di nessuno impersonale io faccio una canzone pop non metto niente della mia vita non metto nomi di persona metto cose che vanno bene a tutti perché devo arrivare a tutti a me questa cosa è sempre stata un po' sul cazzo io voglio fare proprio un disco pop con la sonorità pop ma che parla di me che parla della mia vita parla dei miei amici io sono convinto che in qualche modo raccontare dettagli di persone che la gente non conosce arriva è come quando i cantanti indie facevano le canzoni per città minuscole no perché tu perché chiamai la canzone Santa Marinella Frosinone perché chiamai una canzone Frosinone ma perché è una hit gigantesca perché è bello è dettagliata parlare di cose piccole visive se tu dai proprio un'immagine se io racconto dei miei amici intanto lo faccio per me ma credo che abbia anche proprio una funzione nell'ascolto delle persone perché è la cornice io questo disco l'ho scritto grazie a loro grazie a tutte le serate in cui abbiamo parlato io mi sono aperto con loro loro si sono aperti con me in uno scambio vitale di energie e quindi volevo dedicarli una traccia del disco proprio ai miei amici dettagli dell'umanità che sono quelle cose che poi effettivamente proprio perché dettagli le scopri un po' per caso e ti rimangono effettivamente dentro Frida l'interludio che per essere un interludio posso dire che poteva anche non essere un interludio perché è bellissima effettivamente e dice una cosa bellissima innamorarsi e amare come cioè sono due cose differenti sono come l'ascensore e le scale effettivamente parli di tante tematiche come mai proprio Frida come separazione tra una parte e un'altra del disco beh diciamo che è il pezzo più impegnato del disco da un punto di vista sociale perché parla di femminicidio l'ho scritto dopo il caso Cecchettin perché mi aveva molto colpito la normalità e l'età dei coinvolti nel senso che veramente mi aveva scioccato quel caso perché era successo con una normalità e a un'età che è la nostra bro che mi aveva veramente scioccato mi aveva fatto pensare veramente come la visione dell'amore sia molto distorta in certi casi e anche su come proprio la tematica del non tutti gli uomini che è qualcosa che io ho sempre pensato nel senso che vieni un caso del genere e dici ma non tutti gli uomini sono così effettivamente quella cosa non la puoi dire non la puoi più dire perché veramente non è più una difesa vedendo questi casi così normali così poco così inaspettati tu non puoi più dire non tutti gli uomini secondo me e quindi ho scritto questo brano apposta per per fare il mio perché ho una sorta per la prima volta forse una delle prime volte ho sentito proprio il bisogno di dire ok io ho la fortuna di avere le persone che mi ascoltano usiamo la do questo messaggio ho 23 anni sono un ragazzo non farei mai una cosa del genere ma comunque ci presto l'attenzione che merita e ci metto quel tipo di emotività perché poi la canzone parla la differenza che c'è tra innamorarsi e amare innamorarsi è quel periodo di infatuazione dove tutto è bello l'amore invece richiede impegno lo vedo nei miei genitori lo vedo tutti gli amici nostri che hanno coppie morte, vive amori che sono finiti amori che iniziano perché per amare serve umiltà no? sembra sempre c'è una cosa bellissima che dice Paolo Crepe nel suo libro ma lo dice anche Rick Fromm che la nostra conoscenza dell'amore è una conoscenza empirica cioè delle nostre esperienze io metto l'esperienza del mio amico che mi ha raccontato la mia esperienza ed è questo quello che so dell'amore in realtà l'amore è un'arte e richiede umiltà cioè tu non puoi pensare che alla nostra età noi sappiamo qualcosa dell'amore sicuramente ne sappiamo di più rispetto a quando ne avevamo 14 di anni ma non siamo ancora arrivati a una consapevolezza e quindi tu ti devi impegnare per amare una persona anche nei giorni in cui non l'ami anche nei giorni in cui ti sembra che tu non l'ami e amare può essere la tua fidanzata il tuo fidanzato ma può essere anche un amico può essere anche un parente un ricordo un qualsiasi cosa cioè amare richiede impegno e soprattutto richiede umiltà e è talmente ovvia questa cosa che non arriva perché c'è veramente troppa troppa arroganza e quindi dice vabbè io nella mia vita ho amato sono stato amato quindi so farlo no non lo sai fare nessuno lo sa fare per lo stesso discorso amare una persona vuol dire metterla prima di te tendenzialmente quando non sei più disposto a stare tu dietro di fianco ma vuoi metterti davanti è tutto innamorarsi quando diventa da innamorarsi amare che è un momento magari una fase lì è un grandissimo giro di boa perché il 99% delle relazioni soprattutto la nostra età finiscono in quel momento perché a 23 anni ci sta che uno non dica non vuoi prenderti lo sbatti di dire non voglio sposarmi non voglio avere oppure non voglio comunque avere una relazione che non mi muove più l'emotività di prima ed è super rispettabile assolutamente però comunque da quello a dire che tu hai amato ne passa ne passa ne passa ne passa un disco sull'amore e sulla bellezza dell'amore in generale che finisce cioè l'ultimo pezzo e mette a posto che è un pezzo triste molto è molto triste ok ho messo un interrogativo perché magari a me capita spesso di fraintendere i sensi delle canzoni bello anche delle canzoni in generale però l'ho trovata triste comunque parla di una rottura perché si finisce un disco così finisce con un'accezione un po' più negativa della medaglia insomma che è la rottura in realtà non doveva finire così il disco perché comunque il disco ha altre tipo dieci canzoni quindi comunque uscirà piano piano esatto quindi il fatto che questa sia l'autor è anche un po' una casualità è uno dei pochi casi autobiografici del disco racconta appunto di questa ragazza che ha vissuto da me per un periodo e poi se n'è andata e io diciamo che non sono la persona più ordinata del mondo cazzo quanto ti capisco e quindi racconto del fatto che ho messo a posto casa sperando che tornasse e non perché cioè ho persino messo a posto casa perché non voglio pensare al fatto che lei se n'è andata sai quando c'hai un trauma e pur di allontanarlo fai qualunque cosa no? io non l'avrei mai messo a posto casa ti dico la verità però il pensiero che lei potesse tornare o la paura tutti quei pensieri con le paranoie lì ho detto ora scrivo una canzone su questa cosa qua no su io che apro le finestre metto a posto il cuscino metto a posto il suo burro di cacao che me l'ha lasciato davvero su lì in bagno ma non sono ancora pronto a mettere a posto te non sono ancora pronto a elaborare il fatto che non ci sei più quando ti ha aiutato questo disco per te stesso tanto umanamente tantissimo ma perché guarda ne parlo proprio tranquillamente adesso perché ne sono uscito io ho vissuto proprio la la depressione post cin cin perché a 18 anni quel tipo di attenzione quel tipo di anche solo autostima di adrenalina non è salutare non è salutare perché mette uno schermo davanti alla realtà esatto mi ha fatto sempre sentire molto un ragazzo non della mia età con problemi non della mia età no che interagisce invece con ragazzi della propria età che non riescono poi a a capire a capire che quanto io sia normale di quanto io abbia bisogno e questo disco ma in realtà da un po' di anni che comunque cioè questo disco rappresenta questa mia ripartenza emotiva ma è stato sempre sempre stata la musica la stessa che a volte ti butta giù a tirarti fuori da questa condizione io sono grato alla musica nonostante a volte mi faccia vivere delle emozioni visceralmente orribili no l'ansia la paura di non farcela il fallimento sai quanti fallimenti ho collezionato in questi anni però è sempre lei in qualche modo cazzo che ti ritira fuori e questa cosa è incredibile per me cioè il fatto che io viva la musica come un miglior amico che ogni tanto scompare ogni tanto ti fa stare male è proprio un amore è proprio un amore questa cosa è una storia d'amore un po' tossica ti dico la verità ma incredibilmente vitale perché poi frate alla fine tutti abbiamo un obiettivo nella vita no? io ce l'ho non lo dico perché se no non succede però la musica è sempre il compagno di viaggio ed è una roba incredibile perché non sei mai solo effettivamente mai quindi questo per quanto riguarda te stesso cosa avvi invece al disco in generale cosa avvi soprattutto che sei il messaggio che arrivi e chi lo ascolta così poi ci buttiamo anche a guarda in termini numerici non me ne frega no no proprio a livello esatto da un punto di vista di messaggio emotions io spero che quello che passi sia appunto il fatto che sono troppi anni che viviamo questa condizione di egocentrismo di rabbia di aggressività e di paura di non essere all'altezza esteticamente come siamo vestiti che approccio abbiamo se siamo cool non siamo cool se siamo giusti non siamo giusti io spero che questo disco possa essere una botta d'autostima perché è ok non essere non essere cool è ok non essere giusti ok essere sfigati cioè io davvero ci tengo al mio lato sfigato io ci tengo perché è quello che mi ha fatto scrivere canzoni e che mi farà scrivere canzoni io vengo dal bullismo e dal non sentirmi abbastanza e quella cosa lì mi ha fatto scrivere canzoni e quindi se la mia storia questo disco possono ispirare qualcuno a dire ok ce l'ha fatta a chi non ce la doveva fare no qualcuno che dieci anni fa non faceva fatica a parlare in classe oggi riempie il forum da Sago è stat davvero se hai un'idea e hai amore puoi stravolgere la tua normalità la mia è una storia di normalità però se c'hai un'idea e se c'hai dell'amore in qualche modo tu quella normalità la riesci a stravolgere e questo spero passi da questo anche perché poi secondo me è solo una questione di contesto io vengo pure da da piccolino elementari le medie per tantissimi gestioni diverse ho sempre percepito la dinamica della diversità quindi della non accettazione dell'emarginazione tra virgolette eccetera poi ti accorgi che è una questione di contesto perché se ti metti nel contesto giusto ti senti cool basta la persona più cool del mondo non lo so prendiamone uno chi è la persona più cool del mondo Brad Pitt chi è che si potrebbe sentire lo sposti di contesto e si sente uno sfigato quindi alla fine è tutto un gioco di capire se stessi inserirsi quando uno vuole inserirsi perché poi c'è anche la dinamica del sono soddisfatto voglio scoprire altre cose di me quindi della non comfort zone eccetera assolutamente però tutto con consapevolezza ti devi amare prima di è quello il percorso è un percorso verso l'accettazione cioè nessuno sceglie il proprio corpo la propria famiglia la propria città di partenza no però la vita è andare da un punto A a un punto B esatto e a volte ci sono delle vite che partono da dei punti A che sono wow cioè io se penso da dove sono partito dico minchia cioè mai mi sarei ma davvero dico minchia perché non mi sarei mai aspettato questo cioè fare Sanremo io bro ripeto cioè non parlavo in classe ero zitto in classe e vado a Sanremo cioè questa cosa per me quando ci ripenso altro che terapia cioè devo dire tipo ma cosa è successo no ma perché la vita è questo cioè vai da un punto A a un punto B sorprendi chi non ci aveva mai creduto in te hai vinto in qualche modo no poi c'è ancora tantissimo da fare tantissimo però vedi è bello poi secondo me anche condividere noi abbiamo 23-24 anni è bello anche far sentire queste cose a chi ci vorrebbe pensare ma non c'è ci pensa ma non ce la fa capito ma pensa a este zio dare esempi di vita normale che comunque se ti prendono in giro se ti rompono le palle se ti fanno sentire una merda poi comunque conti tu e solo tu da quando ti svegli a quando vai a dormire e conta il bene che fai e conta comunque tutta la bella effort che ci metti nelle cose effort veramente è un termine che mi sono portato dall'università di economia però è vero a me emozionano storie come Est come la tua bro siete tutti ragazzi fuori sede che a Milano non trovavano la loro dimensione esatto perché poi Milano non è dei milanesi diciamoci la verità ci sono più non milanesi che milanesi tendenzialmente vi siete creati la vostra realtà il vostro brand la vostra radio il vostro bar il vostro gruppo la vostra community lì ti incastri e fate e avete fatto e farete delle figate perché comunque le vostre interviste sono incredibilmente umane ci vengono un sacco di artisti anche giganteschi da voi e qui a me queste storie emozionano perché c'è impegno questa cosa non è fattibile e invece poi lo diventa perché il goal è quello non mi ricordo sono venuti ragazzi che ci hanno fatto le domande e ci hanno chiesto ma qual è l'obiettivo futuro è dar la possibilità al me di sei anni fa di entrare in un posto e sentirsi ok beh è una bellissima cosa da dire il mio goal per tutto quanto quello che facciamo è quello insomma come per te quelle canzoni dire qualcosa a qualcuno e farlo sentire ok ognuno ha il proprio mezzo per accettarsi il filo comune è questo insomma ma bro ma io sono convinto non è ancora forse il momento ma nei prossimi anni vivremo una riscoperta dell'umanità perché se no ci estinguiamo cioè con tutto questa rabbia tutta questa aggressività anche il termine cringe quanto è aggressivo anche proprio letteralmente quanto è aggressivo il termine cringe quanto dire sei cringe è aggressivissimo no chi se ne frega e secondo me dopo tutta questa rabbia aggressività attacco twitter che uno fa così ha fatto così allora è una merda tutti questi insulti a un certo punto o ci estinguiamo o riscopriremo un attimo le motività altrui perché nessuno pensa alle emozioni degli altri e invece secondo me tra un po' di anni io mi auguro il prima possibile ritroveremo un po' quel tipo di normalità assolutamente se ne frega quanti anni hai? 23 anch'io benissimo abbracciamoci esatto come stai allora buttiamoci invece a quello che sta per succedere ovvero il forum e i palazzetti mi hai raccontato prima come sei stato al fatto di vedere un palazzetto pieno per te cosa si deve aspettare da questo round di live che hai preparato che idea che idea per la prima volta nella mia vita facciamolo dirò un palco che non si è mai visto in Italia nella storia dei concerti in Italia un palco così non si è mai visto non si è mai visto non posso dirti come mai però c'è un primo e un dopo quella roba e musicalmente un viaggio nella musica americana folk quel tipo di sonorità ovviamente io su queste cose ci tengo tantissimo abbiamo riarrangiato tutti i brani tutto quanto sì ma perché poi abbiamo una band fantastica abbiamo tre membri in più abbiamo i fiati adesso abbiamo le trombe che è qualcosa che io ho sempre sognato di avere perché il mio tipo di sonorità ne ha bisogno esatto e quindi quello che io vorrei che accadesse e che comunque stiamo lavorando perché accada è che le persone tornino a casa senza voce prima cosa e con quel tipo di vitalità che davvero vuoi abbracciare il primo che passa anche il fatto che il pubblico venga con qualcosa di giallo addosso sembra una cagata ma in realtà invece è incredibilmente vitale perché tu ti riconosci cioè tu stai in quel momento vedi uno hai i tuoi simili intorno vedi uno con la sciarpa gialla e dici sta andando nel mio stesso posto si crea quel concetto di aggregazione esatto dopo anni di assembramento si crea il concetto di aggregazione cioè stiamo andando noi non ci conosciamo ma siamo vicini d'età e stiamo andando nello stesso posto a fare la stessa cosa e magari ci piacciamo anche in questo modo si crea un collegamento e vicinanza però i concerti sono quello i concerti sono letteralmente aggregazione uno perché uno va a un concerto perché dovrei andare a un concerto quando posso ascoltarmi la traccia su spotify per stare insieme a gente perché io ho voglia di emozionarmi e diecimila persone che cantano la stessa canzone magari per motivi diversi però con background diversi storie in testa diverse però è quello ti emoziona il concerto è quella roba che o la vivi o non la puoi non la puoi sostituire non ci sarà mai una tecnologia che sostituirà i concerti mi auguro non mi viene in mente ci hanno provato con fortnite è andata male comunque grazie a dio è andata male non è emotivo allo stesso modo no no assolutamente ma quando ti sei preparato poi l'ariston è stato due settimane fa eh sì ma no le prove le ho fatte prima no 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 le ho fatte dopo Sanremo nel senso che ho avuto la febbre al 40 a 4 giorni e poi ho detto sai che c'è io devo comunque prepararmi e quindi ho fatto 10 giorni di prove a stecca sì sì oggi è il primo giorno libero ieri abbiamo finito le prove sei soddisfatto? molto molto e come lo volevi tu? non lo so eh certo ti dico la verità non lo so semplicemente perché non l'ho ancora visto domani vedrò per la prima volta il palco ah tutto cioè l'ho già visto però l'ho visto capito nei render non è capito no 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 però domani c'hai il domani c'ho il palco che frate cioè io ti giuro vorrei dirti di più ma il palco quel palco è una roba incredibile cioè sarà una roba gigantesca che bello bro i puntini che si mettono insieme è una roba veramente pazzesca senti voglio sapere dove tenevi in vacanza per quanto tempo e quali dopo il tour sono i tuoi i sogni di Soma facciamo anche un riassunto di sogni ma proprio passi che vuoi fare? beh credo che a marzo tra appunto il forum e i nuovi palazzetti credo che mi farò dieci giorni via non in Italia da qualche parte volevo andare a trovare il mio amico in Olanda quello della seconda Soma Filippo oppure proprio andare in una spiaggia senza niente semplicemente perché ho bisogno un attimo di di vivermi il niente capito? l'io il niente il silenzio il famoso silenzio che è una delle canzoni più belle del mondo il silenzio se ci pensi e quindi mi piacerebbe andare lì con la mia migliore amica a farmi dieci giorni da qualche parte prima poi di iniziare i palazzetti il pezzo estivo la promozione estiva figurati saranno mesi strong hard as fuck e poi a livello di di obiettivi chiaramente dopo dopo un disco c'è tutto un altro percorso ci sono le altre canzoni che comunque le ho già fatte devono uscire c'è il brano estivo c'è il tour poi dopo quello dei palazzetti che è il tour estivo quindi insomma ce ne sono di cose da fare quello che mi auguro è di godermelo io sai che alfa ho come nome d'arte alfa perché mi sento sempre all'inizio non mi godo le cose penso sempre che si può fare di più stavolta sto giro spero mi auguro di vivermelo no tanto poi i concerti ti danno sempre quella botta di emotività e di umanità li conosci un sacco di persone io poi chiacchiero dopo i concerti che faccio quindi comunque non so come dire cioè fai anche nuove amicizie assolutamente e quindi spero che siano mesi vitali proprio di di godimento proprio di assorbimento occasione di conoscere persone nuove persone che spaccano musicisti scrivere nuove canzoni cioè sono molto sull'attenti sto osservando tanto le orecchie aperte il cuore pure dire vediamo che succede entra roba e poi vediamo che succede ah sì frate io ti voglio molto bene perché c'è il cuore sincero e nelle tue emozioni articolate come quelli di tutti noi trovi sempre il modo più diretto e comprensibile di raccontarlo e ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi in bocca al lupo per la prima per la prima e per tutti i palazzetti che stai per affrontare e anche per la vacanza devo dire che comunque io sono un amante del lavoro ma sono anche un grandissimo amante del farmone dell'ozio della playstation del mare che vengono dal mare quindi come te grazie mille però in bocca al lupo per tutto sono troppo felice bella lì in bocca al lupo buon lavoro ciao ciao